si proceda oggi 8 febbraio 1600 anno del giubileo diciamo pronunziamo decretiamo sentenziamo te giordano bruno eretico impenitente pertinace e ostinato e perciò in corso in tutte le censure ecclesiastiche e pene imposte dai sacri canoni e come tale te degradiamo verbalmente da tutti gli ordini maggiori e minori e ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa immacolata chiesa della cui misericordia ti sei reso indegno di più condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri e scritti come eretici ed erronei ordinando che siano pubblicamente distrutti e bruciati nella piazza di san pietro innanzi alla grande scalinata e che pertanto essi siano posti nell'indice dei libri proibiti ti consegniamo il governatore di roma perché tu subisca le debite pene pregando però efficacemente che voglia prendersi cura della tua persona e che tu non abbia a soffrire alcuna mutilazione di carne o di membra secondo quanto stabilisce la procedura la sentenza è stata letta appuntamente al imputato nella casa di sua eminenza cardinale madruzzi sita in piazza navona dal notaio flaminio adriano e ciò viene confermato dai testimoni delegati francesco pietrasante fra benedetto mandina quali controfirmano i verbali dopo averne verificate d'attestata la conformità al testo stabilito da questo santissimo tribunale mai più micchinaio e nemmeno su un fiore più non arrossi nel rubare l'amore dal momento che inverno mi convinse che ti non sarebbe arrossito rubandomi il mio mi arrestarono un giorno per le donne ed il vino non avevano leggi per punire un blasfemo non mi uccise la morte ma due guardie bigotte mi cercarono un'anima a forza di botte perché dissi che dio imbrogliò il primo uomo lo costrinse a viaggiare una vita da scemo nel giardino incantato lo costrinse a sognare a ignorare che al mondo c'è il bene c'è il male quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita per paura che ormai non avesse padroni lo fermò con la morte in vento di stagioni mi cercarono un'anima a forza di botte e se furon due guardie a fermarmi la vita è proprio qui sulla terra la mela proibita e non dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato ci costringe a sognare in un giardino incantato ci costringe a sognare in un giardino incantato dim sono stata una casta vincente prima che fosse vincente la casta dalla francia alla francia difendo se l'attacchi la lancio ti fendo estraggo la spada da cuoio polvere in doio ma non mi arrendo perché sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico ammettilo sono il tuo sogno eretico ammettilo non ne parla il millequattro non ne hanno zero ed ora mi piccano mi appiccano come un bel gala capodanno di me rimarrà un pugno di genere da accettare in arno scendevi farò raggiù bruciare i libri di tese era meglio mettere su i carboni del barbecue mi bruci per ciò che predico è una fine che non mi merito fanno in genere la verità perché sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico ammettilo sono il tuo sogno eretico infine mi chiamo come il fiume che batte il zocco lui necco in dove fui posto in posto in pui picca arredati col feng shui nella cella al raietto perché tra fede e intelletto ho scelto il suddetto io mi ha dato un cervello se non lo usassi gli mancherei di rispetto è tutto crozza come morsala favella nella morsala mia pelle è bella arsa il processo è la farsa adesso mi tocca tappare la bocca nel disincarlo lì fuori lasciatemi in vita invece di farmi una statua in campo dei fiori mi bruci per ciò che predico è una fine che non mi merito fanno in genere la verità perché sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico io sono il tuo sogno eretico mettilo io sono il tuo sogno eretico Lo accendiamo? Lo accendiamo? Lo accendiamo? Preferirei dichiarare subito un po' l'impostazione che voglio dare a questo mio discorso. Ritengo che non sia possibile avvicinarsi allo studio di un pensatore come Bruno o in genere a qualsiasi pensatore con un atteggiamento filologico. Sarebbe noioso certamente in un contesto come questo fuori dagli ambienti universitari, ma a mio avviso non è nemmeno possibile, perché è inevitabile rapportarsi a un pensatore del passato comunque con una prospettiva che sarà sempre la nostra. Questo non vuol dire che qualsiasi lettura, qualsiasi interpretazione sia legittima, non è vero nemmeno questo. Credo che lo stesso Bruno probabilmente potrebbe essere d'accordo con questa mia impostazione perché in uno dei testi di cui poi proverò a leggere qualcosa, che lui scrive a Londra la cabala del cavallo Pegaseo con l'aggiunta dell'asino cillenico, lui attacca contemporaneamente, critica contemporaneamente i dogmatici e gli scettici. Cioè sia coloro che ritengono che siano possibili verità assolute e definitive, potremmo dire oggettive, ma anche coloro che ritengono invece che non sia possibile conoscere alcuna verità. Bruno si inserisce in un percorso a mio avviso che ha antiche radici, che va dal so di non sapere socratico fino alla dotta ignoranza di Niccolò Cusano che è uno dei suoi punti di riferimento. Ecco, questa è un po' l'impostazione che io vorrei tenere, cioè tener conto che noi che parliamo oggi di Giordano Bruno siamo in qualche modo anche i suoi figli, nonostante la sua opera abbia fatto difficoltà a diffondersi, ma comunque questo nostro tempo è figlio anche delle cose che lui ha detto parecchi secoli fa. E ora che noi guardiamo al suo pensiero, inevitabilmente lo guardiamo alla luce di una serie di sviluppi che quel pensiero ha avuto, di cui non possiamo non tener conto. Compresa anche una difficoltà che è data dal fatto che questo nostro tempo in cui noi viviamo è abituato maggiormente ad un pensiero analitico. Le scienze ci hanno abituati tutti a un pensiero estremamente analitico, settoriale, laddove Bruno è un pensatore sintetico. Quindi bisogna essere consapevoli della difficoltà che inevitabilmente si fa nel momento in cui si instaura questo che è, come sappiamo, un circolo ermeneutico, cioè un circolo in cui è inevitabile collocarsi per poter interpretare qualsiasi pensatore, ma in questo caso è il nostro gruppo. Allora, mi sembra anche giusto partire dalle sue parole. Giordano Bruno si reca a Londra fra l'84 e l'85 in Inghilterra, ospite dell'ambasciatore francese, perché nel periodo parigino lui aveva avuto un certo successo, ma insomma è una parola un po' impropria, era stato molto ben accolto a corte da Enrico III di Valois, l'ultimo re francese di questa dinastia, e poi appunto si era trasferito a Londra ospite di questo ambasciatore. E lì scrive sei dialoghi in lingua italiana. A Londra lui entra in rapporto con la corte della regina Elisabetta, che è una corte dove si parlava normalmente italiano, dove l'inglese era considerato quasi una lingua parvara, e quindi non stupisce che lì lui scriva sei dialoghi in italiano. Anche questo fatto dei dialoghi, molte opere di Giordano Bruno sono scritte in forma dialogica, a parte Il Candelaio che è ovviamente un testo teatrale, ma anche i testi più filosofici sono comunque scritti in forma dialogica. Certo, non è il primo, da Platone in poi c'è una tradizione, ma io insomma sono sempre particolarmente sensibile alla forma con cui un pensatore decide di dar corpo ai propri pensieri. Non è mai casuale la forma. La forma sistematica in Aristotele ha il senso per il pensiero di Aristotele, la forma foristica di Nietzsche ha senso per il pensiero di Nietzsche, quella di Aristica di Kierkegaard per lui. E quindi il fatto che Giordano Bruno scelga questa tecnica dialogica, e quindi anche questo secondo me è da inserire e considerare all'interno del suo pensiero. In quello stesso periodo, pensate semplicemente questo, un suo contemporaneo come Bacon, come Francesco Bacone, quando parla di una tipologia di idola, di idoli, parla degli idolateatri, gli idoli del teatro, e sono proprio quelli che lui considera i pregiudizi filosofici, cioè dà una accezione negativa alla scena teatrale come scena filosofica in cui c'è una successione di attori, di personaggi che dicono ognuno la propria. Non è questa l'impostazione a mio avviso di Bruno. In Bruno, per quel discorso a cui accennavo prima, la scena filosofica è una scena teatrale, perché all'interno della scena teatrale le varie figure, i vari protagonisti sono all'interno di un unico mondo, di un unico ambiente, in un percorso in cui, secondo me, almeno questo è uno dei punti di vista per me fondamentali per avvicinarci a questo pensatore, secondo un percorso in cui l'errore è superficiale considerarlo semplicemente il contrario della verità, in cui l'errore va considerato invece come il percorso della verità, il cammino della verità. Io questo cercherò un po' di provare a dirlo. Comunque, il primo di questi dialoghi è la cena delle ceneri, che senz'altro conoscerete, e io da qui vorrei partire. A un certo punto, all'interno della cena delle ceneri, noi troviamo un intervento chiarissimo in cui il personaggio di Teofilo, in diversi di questi dialoghi, il personaggio coro, diciamo, che esprime la voce di Bruno, si chiama Oteofilo Filoteo, cioè un nome che ha sempre a che fare con l'amicizia, l'amore, la ricerca di Dio. E a un certo punto di questo dialogo, la cena delle ceneri, il personaggio di Teofilo, cioè Bruno, prende posizione su quella che in quel momento, siamo nell'84, è una delle questioni filosofiche, potrei dire una delle questioni culturali più dibattute, cioè la questione dello scontro fra eliocentrismo e geocentrismo. E chiaramente, come ascolterete, lui prende posizione dalla parte di Copernico. Dice, ecco, leggo rapidamente perché mi sembra anche giusto ascoltare direttamente la sua voce. Or, ecco quello che ha varcato l'aria, si riferisce a Copernico. Penetrato il cielo, discorse le stelle, cioè attraversate le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglia delle prime, ottave, none, decime e altre che vi avessero potuto aggiungere sfere per relazione dei vani matematici, sono le sfere del sistema aristotelico tolemaico, no? Le ha attraversate tutte. Et ceco veder di filosofi volgari. Così, al cospetto d'ogni senso et ragione, con la chiave di solertissima inquisizione, aperti quei chiostri della verità che da noi aprirsi possiano, nudata la ricoperta et velata natura, adonati gli occhi alle talpe, illuminati ciechi che non possèano fissar gli occhi et mirar l'immagine sua in tanti specchi che da ogni lato gli sopponeano, gli astri, sono diventati degli specchi che moltiplicano all'infinito l'unica immagine che noi possiamo vedere dalla terra. Sciolta la lingua ersuti che non sapevano, non ardivano a esplicargli intricati sentimenti, risaldati i zoppi che non voleano far quel progresso col spirito che non può far l'ignobile e dissolubile composto. Insomma, per motivi di tempo non vado oltre. Ma come vedete c'è una decisa presa di posizione da parte di Bruno dalla parte di Copernico. Attenzione, in questo momento è facile entrare all'interno di questa contrapposizione, di questo dibattito, dalla nostra prospettiva di uomini di questo nostro secolo. Ma in quel momento il sistema aristotelico-tolemaico non era semplicemente il sistema che aveva retto per secoli, era il sistema che aveva funzionato anche. Non dimentichiamo che i navigatori utilizzavano quel modello per spostarsi orientandosi con le stelle. In qualche modo Colombo ha potuto fare il suo viaggio anche perché lui immagina la struttura dell'universo come l'aveva descritto Aristotele. E si orienta e si muove. Quindi era un sistema che non si reggeva soltanto sulla autorità degli aristotelici, sul deciso schierarsi della Chiesa a favore di quel sistema perché vi avrebbe trovato delle giustificazioni nella Bibbia, eccetera, eccetera. Ma anche perché era un sistema che funzionava. E d'altra parte, anche questo secondo me è interessante notarlo, quando l'opera di Copernico esce, 40 anni prima di queste parole di Bruno, nel 1543, quando esce il De Revoluzionibus Orbium Celestium, l'opera con cui Copernico, attenzione, con calcoli matematici, non con una verifica empirica, sarà, come sappiamo, Galilei 25 anni circa dopo questo scritto di Bruno, che, col sidereus nuncius, darà una dimostrazione, diciamo pure empirica, alla fondatezza delle idee copernicane. Copernico, con un calcolo matematico, fa tutto questo. Ma l'introduzione a quel libro, che esce anonima, noi oggi sappiamo fu scritta da Osiander, Bruno, nella sua straordinaria intelligenza, non sapeva chi l'avesse scritta, ma aveva intuito che era un'introduzione spuria, diciamo così, che non era di Copernico, e infatti aveva ragione. Ebbene, Osiander dà una lettura dell'opera di Copernico di tipo, come sappiamo, strumentalista. Cioè, come dire, non pensiamo, dice Osiander, non pensiamo che queste teorie scientifiche stiano qui a dirci come è fatto il mondo. Le teorie scientifiche non ci dicono come è fatto il mondo. Le teorie scientifiche, dice Osiander, possono funzionare meglio o peggio per aiutarci a muovere dentro il mondo. Quindi questa che adesso leggerete, cioè quella di Copernico che lui introduce, vedrete, funziona altrettanto bene o forse meglio di quella che fin qui ha funzionato. Ebbene, all'interno di questo dibattito, come abbiamo letto poco fa, quelle poche righe, Bruno si schiera dalla parte di Copernico. È una posizione netta, insomma, il tono, io ho cercato così nel mio piccolo di darvi anche un minimo di senso, no, non sono solo parole, ma è anche l'accoramento con cui le sostiene. Noi sappiamo che, attenzione, a voler essere proprio precisi e pignoli, qualche intuizione nel passato c'era stata, nel senso che negli ambienti pitagorici, per esempio, Filolao di Crotone, per esempio, negli ambienti pitagorici c'era stato qualcuno che aveva appena adombrato la possibilità che il sistema che poneva al centro di tutta la Terra potesse non essere esatto, ma pochissima cosa. Ecco, leggo che Alessandro Paris, che colgo l'occasione di salutare, cita anche Aristarco di Sago. Quindi c'erano delle figure. Ma, insisto nel dire anche questo, il sistema aristotelico tolemaico che adesso sta crollando, che in questo momento sta crollando, lo insisto per tornare a quel concetto a cui io tengo molto, dell'errore come il cammino della verità e non semplicemente come il suo opposto. Se noi andiamo a vedere, il sistema aristotelico poggiava sull'idea della teoria dei luoghi naturali e la teoria dei luoghi naturali, cioè l'idea che i quattro elementi non si distribuissero casualmente ma tendessero ognuno a raggiungere il proprio luogo naturale e che il proprio luogo naturale era determinato dal peso, se voi cogliete, come dire, qualcosa ci avevano azzeccato, cioè l'idea che il peso avesse un ruolo e che poi tutto questo era stato confezionato nella maniera che sappiamo i quattro elementi, il mondo sublunare, un quinto elemento, il mondo lunare, queste sfere perfettamente concentriche in cui erano incastonati gli astri e questo era il sistema che conosciamo. Contro questo Copernico si era mosso, contro questo Bruno si muove. Ma non vorrei prolungarmi ancora, dilungarmi ancora su questo, perché ovviamente non comprenderemmo a fondo Bruno se pensassimo che la sua posizione sia quella di un sostenitore, semplicemente di un sostenitore di Copernico. È chiaro, l'abbiamo sentito, lui si schiera da quella parte, ma Bruno va oltre Copernico. Perché già lì è adombrata questa idea che gli astri siano specchi in cui noi ci specchiamo, già ci dà l'idea non di un semplice rovesciamento del rapporto fra sole e terra. Per Bruno non è soltanto questo, non è che adesso al posto della terra collochiamo il sole e tutti gli altri astri ruotano adesso attorno al sole e non più attorno alla terra. Bruno sta disarticolando proprio questo sistema, ci sta parlando di un mondo, di un universo che è infinito, in cui di terre ce ne sono tante e di soli ce ne sono tanti. Questa affermazione che per noi è abbastanza accettata, però cercate di collocarla in quel contesto storico. L'universo è infinito. Infinito significa che non ha fini, non ha un termine. Ma non solo questo, significa che se l'universo diventa infinito, tutto al suo interno si relativizza. Le distanze, il centro, la semplice idea che non ci sia più un centro, non c'è soltanto, la parola che usa Copernico, una rivoluzione, cioè un rovesciamento, non c'è più la terra al centro, adesso c'è il sole. Nella visione di Bruno non c'è proprio il centro. Ecco, questa è una prospettiva che veramente dilata enormemente tutto quanto. ma non basta ancora. Inevitabilmente collegata a questa idea comincia a prender piede nella visione di Bruno quello che noi adesso un po' sbrigativamente chiamiamo visione monistica. Se l'universo è infinito, è un universo infinito di parti finite è chiaro che quella visione dualistica a vari livelli, adesso io ne tocco uno fra i tanti che potremmo toccare perché a me sembra insomma sempre affascinato particolarmente questo punto. La visione monistica abbatte i vecchi dualismi. Anche qui però mi faccio precedere da una lettura di Bruno. Da quell'altro dialogo che vi citavo la cabala del cavallo Pegaseo con l'aggiunta dell'asino cillenico a un certo punto devo leggere poco poco di più ma altrimenti non si comprende il personaggio di Onorio dice questo quella dell'uomo è medesima in essenza specifica e generica con quella delle mosche parlando della figurazione termine mosche ostre che marine e piante di qualsivoglia cosa che si trova animata o abbia anima come non è corpo che non abbia o più o meno vivace e perfettamente comunicazione di spirito in se stesso giongo a questo che se fosse possibile o infatto si trovasse che d'un serpente il capo si formasse e stornasse in figura di una testa umana ed il busto crescesse in tanta quantità quanta può contenersi nel periodo di codale specie se gli allargasse la lingua ampiassero le spalle se gli ramificassero le braccia e mani al luogo dove è terminata coda andassero ad ingeminarsi le gambe intenderebbe apparirebbe spirarebbe parlarebbe operarebbe camminarebbe non altrimenti che l'uomo cosa sarete colto se un serpente avesse un altro corpo sarebbe un uomo più in là e poi chiudo la citazione e provo dunque come potrebbe istituirsi e durare le famiglie ed unioni di costoro parimenti e qui sta parlando della vita sociale dell'uomo o più che dei cavalli cervi porci senza esserno devorati da innumerabili specie di bestie per essere in tal maniera soggetti a maggiore e più certa ruina e per conseguenza dove sarebbero le istituzioni di dottrine le invenzioni di discipline le congregazioni dei cittadini le strutture degli edifici ed altre cose assai che significano la grandezza ed eccellenza umana e fanno l'uomo trionfator veramente invitto sopra l'altra specie e adesso risponde tutto questo cioè tutto questo che l'uomo è stato in grado di costruire tutto questo se oculatamente guardi si riferisce non tanto principalmente al dettato dell'ingegno quanto quanto a quello della mano organo degli organi straordinario attenzione che la mano sia organo degli organi non lo dice Bruno per la prima volta se noi prendiamo il de anima di Aristotele ecco quello che dice Aristotele non c'è la pietra nell'anima bensì la forma della pietra di conseguenza l'anima è come la mano perché la mano è lo strumento degli strumenti e l'intelletto è la forma delle forme e il senso la forma dei sensibili è keir organon estim organo la mano è l'organo degli organi aveva detto Aristotele qui c'è una esplicita citazione di Aristotele per andare oltre Aristotele in Aristotele Aristotele ha intuito il ruolo della mano per come dire per la la nascita dell'uomo e l'origine di ogni civiltà ma nella visione Aristotelica la mano cioè qualcosa di materiale resta qualcosa di inerte che deve essere animato con un intervento esterno che è appunto quello dell'anima della dimensione spirituale la visione cioè una visione come dicevo prima dualista la novità in Bruno è che per Bruno addirittura la mano ha lo stesso ruolo dell'intelletto non c'è una subordinazione dell'elemento materiale corporeo rispetto a quello spirituale perché semplicemente perché materia e spirito non sono due sostanze separate e distinte di lì a poco ricorderete Cartesio parlerà di una res cogitas di una res extensa nettamente divisa separato qui siamo in una prospettiva dicevo monistica non si sente se vogliamo il neoplatonismo di Bruno ma nella versione plotiniana se ricordate plotino rovescia la prospettiva socratico platonica nella prospettiva socratico platonica l'anima è contenuta all'interno del corpo il corpo è il contenitore dentro cui si trova l'anima nella prospettiva plotiniana invece e qui la ritroviamo in Bruno nella prospettiva plotiniana è il corpo diciamo tra virgolette contenuto è la materia contenuta nello spirito come suo limite ecco riaffiora questa questa linea interpretativa che insomma adesso magari qui non è tempo non abbiamo il tempo di approfondire sto vedendo che sta correndo rapidamente il tempo ma è di enorme importanza per lo sviluppo del pensiero successivo quindi come per dirla in estrema sintesi parte da uno schierarsi dalla parte di Copernico per andare però oltre queste visioni e a mio avviso un passaggio obbligato ovviamente uno dei più noti è quello che troviamo nel degli eroici furori l'ultimo dei sei dialoghi italiani dove lui riprende e rilegge il mito di Ateone rilegge se voi leggete non ho il tempo ce l'ho qui il mito in Ovidio chiaramente la struttura è la stessa ma con delle modifiche notevoli lo leggo rapidamente ma lo conoscerete senz'altro così si descrive il discorso dell'amore eroico per quanto tende al proprio oggetto che è il sommo bene l'eroico intelletto che giongersi studia il proprio oggetto che è il primo vero e la verità assoluta ecco di cosa ci sta parlando questo mito dice Bruno il personaggio di Tansillo ma è la voce di Bruno cioè qui raccontiamo cosa fa l'intelletto quando cerca di andare a in caccia del proprio oggetto cioè il primo vero verità assoluta or nel primo discorso apporta tutta la somma di questo e l'intenzione l'ordine della quale viene descritto in cinque altri seguenti dice dunque e qui riporta facciamo proprio le sue parole il mito alle selve i mastini e i veltri slaccia il giovane a teon e quando il destin gli drizzi il dubbio ed incauto cammino di boscarecce e fiere appo la traccia sta andando a caccia di fiere per i boschi con questi cani e mastini ecco tra l'acqui il più bel busto e faccia che veder possi il mortale divino in ostro ed alabastro ed oro fino vede e il gran cacciator dovenne caccia vede come sappiamo Diana che si sta bagnando nuda e il gran cacciator dovenne caccia il cerveo che a più folti luoghi drizzavi passi più leggeri ratto voraro i suoi gran cani e molti e allargo i miei pensieri ad alta preda ed essi a me rivolti morte mi dan con morsi crudi e fieri dopodiché spiega ateone significa l'intelletto intento alla caccia della divina sapienza all'apprensione della beltà divina costui slaccia i mastini e i veltri da un'interpretazione se leggete Ovidio Ovidio fa proprio l'elenco dei nomi dei cani lui invece li racchiude a queste a queste due razze direbbero noi i mastini e i veltri dei quai questi i veltri sono più veloci quelli i mastini più forti perché l'operazione dell'intelletto attraverso i concetti cioè i veltri precede l'operazione della volontà è più veloce della volontà che procede per volizioni ma questa la volontà come i mastini è più vigorosa ed efficace che quella insomma è un brano famosissimo è sempre bello leggerlo perché qui è descritta proprio la conseguenza di questa visione ormai monista di Bruno il nostro intelletto a teone che va a caccia e incontra la dea nuda cioè la verità all'eteia come sappiamo altro non significa che questo la verità come disvelamento come qualcosa che è senza veli ecco Diana nuda che si sta bagnando viene trasformato egli stesso in preda in cervo e i suoi cani lo divorano certo l'idea che chi va in caccia della verità debba cercare questa verità rivolgendo l'attenzione a se stesso anziché fuori di se stesso come noi sappiamo è il grande la grande scritta sul tempio di Delphi Gnotis Auton come aveva insegnato Socrate ma qui è di più qui non è un semplicemente non è soltanto la linea socratica che arriva anche fino ad Agostino anche le parole di Agostino sono straordinarie su questo piano qui c'è questa visione monistica per cui non c'è spazio per una verità trascendente per un andare al di là di un mondo che altro non è questo e quindi inevitabilmente questa dinamica umana la dinamica della conoscenza è rivolta all'interno di questo universo infinito che è l'unico non ammettendone altro insomma vi chiedo scusa se magari adesso rapidissimamente ma non voglio veramente andare troppo oltre con il tempo questo che provo a dire avrebbe veramente bisogno di molto più tempo nella visione bruniana dunque io ogni volta che leggo Bruno è inevitabile non può essere altrimenti non posso che leggerlo sentendomi riecheggiare dentro le parole di Spinoza nel senso che questa visione immanentistica del divino sono due pensatori Bruno e Spinoza che non fanno altro che parlare di Dio ma ovviamente di un Dio che è tutt'uno per usare l'espressione spinoziana con la natura e questo è anche che è un po' poi io su questo voglio proprio completare un altro dei grandi temi che esplode in questo momento lo schematizzo così e mi rendo conto di tutto il rischio di qualsiasi schematizzazione la storia del pensiero occidentale è ricca di pensatori che hanno cercato di cogliere il luogo in cui la verità parla Dio parla dico Dio sia nelle visioni in cui Dio è colto nella sua trascendenza che in quelle dell'immanenza e in genere in questa tradizione i luoghi in cui si è cercato il luogo in cui appunto la verità parla sono due la natura e la storia no ripeto con un eccesso di esemplificazione ma a me sembra questo si possa dire non so è chiaro da un lato troviamo appunto pensatori come Bruno come Galilei come Spinoza e dall'altro troveremo pensatori come Vico come Hegel come Heidegger insomma ebbene in questo momento il dibattito è su questo piano la verità o se vogliamo usare la parola Dio parla attraverso la natura chiaramente il tema è con quale linguaggio se vogliamo comprendere la parola della verità noi dobbiamo imparare il linguaggio con cui essa parla e qui si apre un bivio un bivio di contemporanei perché noi da un lato abbiamo Galilei il quale ci dice la natura è un libro che Dio ha scritto con caratteri matematici questo è il linguaggio con cui la verità parla la matematica Bruno non accetta questa impostazione non solo in adversos matematicos ma in tutta la sua attenzione e la sua cura per la magia per l'ermetismo per per un pensiero che torna agli antichi egizi e questo in Bruno è evidente a parte il corpus ermeticum che è un punto di riferimento obbligato per Bruno e per altri intellettuali del tempo corpus ermeticum oggi noi lo sappiamo è scritto da qualche neoplatonico tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo ma loro erano convinti che fosse opera di questo Hermes Trismegistus cioè un sapiente egiziano degli antichi egizi e qui qui c'è un bivio appunto Bruno è convinto che la matematica possa leggere ed interpretare la natura in maniera statica cosa che la natura non è nella visione di Bruno proprio perché nella visione galileiana e cartesiana cioè in una visione dualistica è lo spirito a non essere statico ad essere dinamico la natura è una macchina è qualcosa di meccanico questo è proprio qui più che galilei è proprio è proprio cartesio e quindi essendo qualcosa di statico il linguaggio matematico è il più adatto a comprenderlo perché essa stessa è espressa in quel linguaggio la visione bruniana non è questa la visione bruniana è la visione di una natura che è materia e spirito al tempo stesso perché non esistono due forze separate e distinte ma esiste un'unica forza che si manifesta in modalità diverse una forza unica ecco perché lui pensa di poter trovare nel pensiero degli antichi egizi un'altra strada per leggere questa natura che appunto si rifiuta di pensare meccanica come dire statica ecco adesso sarebbe interessante ma insomma mi rendo conto che è abbastanza lungo provare a capire come mai un linguaggio lui vada a ritrovarlo negli antichi egizi ma però qui ecco lo accenno soltanto magari ecco se poi ne abbiamo voglia potremmo anche approfondirlo ma qui c'è proprio a tutti gli effetti un ritorno ad un sapere che è precedente alla scrittura alfabetica io di questo diciamo sono convinto se leggete la grande opera che su questo terreno il professor Carlosini da tanto tempo fa insomma io credo che sia un ottimo modo per comprendere non solo ma anche questa prospettiva non è tanto la sapienza egizia è una sapienza antica e precedente al momento in cui la scrittura diventa scrittura alfabetica perché la scrittura alfabetica per forza di cose è una scrittura che è perfetta per comprendere un universo una realtà strutturata dualisticamente perché nella scrittura alfabetica la corporeità del segno è continuamente travalicata dalla spiritualità che pensiamo abbia il significato ognuno di noi potrebbe leggere una lingua io potrei non capire niente di norvegese ma se io trovo scritto qualcosa in norvegese posso leggere leggo senza capire il segno la materialità del segno è fatta per essere superata dalla spiritualità del significato ecco questa visione dualistica adesso vi chiedo veramente scusa della sinteticità con cui ho detto queste cose ma ha come apice la totale spersonalizzazione del segno appunto nella matematica la quale è lingua universale infatti e nonostante i tentativi di Leibniz in futuro per poter fare qualcosa di analogo fuori della matematica oltre alla matematica come sappiamo è la matematica che ha potuto avere quella universalità che oggi è a tutti gli effetti trionfante chiudo dicendo da un lato da un lato sembrerebbe che il pensiero di Bruno da questo punto di vista sia un pensiero sconfitto sconfitto non soltanto dalla chiesa di allora che lo ha bruciato e ha messo all'indice le sue ovvi ma sconfitto anche dal trionfo delle scienze che sono tali perché hanno questo linguaggio comune che è la matematica però mi sembra che qualsiasi tentativo di pensiero che cerchi di non di rifiutare non di negare assolutamente il discorso delle scienze cioè ogni tipo di riflessione che tenda a cogliere il senso e il significato di questa modalità di rappresentarci il mondo così settorializzato così analitico come dicevo all'inizio ebbene qualsiasi tentativo di questo genere io credo che possa e debba ancora attingere molto dal pensiero di Bruno vi chiedo scusa se sono andato un po' oltre i tempi io cercherò di essere breve e ho sentito la bella relazione e vorrei porre un paio di questioni in modo rapido senza prendere molto tempo la prima è che comunque Bruno si misura con la matematica nel scrivere sul minimo del minimo si misura con la matematica non c'è soltanto un rifiuto netto ed esclusivo poi la matematica significa tante cose in Galileo una cosa l'algebra che conosceva Bruno è un'altra cosa in Cartesio è un'altra cosa oggi è un'altra cosa insomma e quindi farei una domanda di questo tipo Bruno mi interessava anche per questo suo relazionarsi ai problemi del minimo che è un problema matematico la seconda questione è che più che verità o errore io direi che la conoscenza in Bruno rimane una conoscenza umbratile una conoscenza umbratile che ci offre l'opportunità di diventare capaci di migliorare noi stessi e gli altri e questa conoscenza umbratile si gioca nel grande teatro del mondo il mondo per Bruno è un grande teatro solo che non è più governato dalla dalla visione di Ficino diciamo che vira le attitudini conoscitive verso il trascendente ma è più riportabile più a Plotino cioè la provvedenza di Plotino che è drammatica perché non tutto è bene in Plotino diciamo c'è anzi per Bruno diciamo che è molto stretta la via per che ci può permettere di evitare pedanterie pazzie e stoltezze e e quindi qui si pone la questione anche dello spaccio della bestia trionfante lo spaccio lovesse trionfante e qui ha ragione Michele Ciliberto secondo me è il punto più alto del dello sforzo di Bruno di riformare il mondo sappiamo che nello spaccio la riforma che Giove tenta del mondo è una riforma ampia complessa e articolata quindi gli eroi cifurori tendono c'è questa caccia alla verità ma permane secondo me per Bruno è inevitabile la conoscenza rimane umbratile non c'è una verità assoluta e non si pone neanche la questione rapporto verità errore perché noi siamo nelle ombre e in questo mondo umbratile possiamo certo fare agire le nostre attitudini conoscitive il nostro intelletto i sensi che però rimane irriducibilmente umbratile e il teatro del mondo presenta cattivi attori e buoni attori lo vediamo nel Candelaio lo vediamo anche in altre opere di Bruno e i cattivi attori sono i pedanti gli stolti i buoni attori sono coloro che socraticamente tentano di migliorare se stessi e di allargare il campo delle possibilità umane per quanto riguarda gli egizi un'ultima cosa e vabbè ma Bruno dice che deve passare la nottata nel senso che ci siamo allontanati dalla religione degli egizi la religione degli egizi è una religione del vivente sicuramente di tutte le forme viventi di una natura giustamente dinamica e con il trionfo del vivente e senza il professor diceva alfabeto prealfabetico può essere insomma anche se le parole come i numeri in Bruno continuano ad avere un grande significato in questo teatro del mondo la religione degli egizi non è una religione non la vede come un'impostura Bruno non la vede come un'impostura e quindi la considera sicuramente da preferire a tutte le religioni rivelate e l'affinità con Spinoza sta qui nell'impostura di tutte le religioni rivelate che accomunano Bruno e Spinoza più che nella conoscenza perché Spinoza parla di idee adeguate ora le idee adeguate sono completamente adeguate per Spinoza quindi corrispondono Bruno parla di ombre di conoscenza ombrattica quindi da questo punto di vista non vedo una continuità Bruno Spinoza anche se io rifiuto di vedere continuità rapporti tra gli autori ogni autore poi o epigolo o l'anticipatorio Giordano Bruno sicuramente probabilmente rifiuta anche il dominio matematico perché lui come diceva anche il professore nella relazione vuole tenere questo dinamismo e questa qualità anche il primato anche delle potenzialità mentre la matematica è una contrazione che può essere anche soffocante la complessità e l'articolazione della natura ecco volevo porre queste questioni mi piacerebbe poi anche un incontro io l'ho detto al signor Daniele che ho conosciuto grazie conosciuto per via telegram grazie al mio collega Michele Michele Cassiero diciamo anche una bella iniziativa sullo spaccio della bestia trionfante sarebbe sarebbe bello anche fare questo grazie Vavala per questo suo intervento che è un contributo lo considero a tutti gli effetti un contributo sì lui ovviamente ci sono degli aspetti che possono essere approfonditi tutto il discorso sul de minimo per esempio oltre a quello che lui diceva è tutto un discorso molto interessante sulla io molto rapidamente per motivi di tempo vi ho detto nella visione di Bruno l'universo è un universo infinito fatto di parti finite come noi sappiamo fin dal tempo di Democrito si è accese il dibattito se questo universo infinito al tempo stesso dovesse essere infinitamente divisibile sappiamo che Anasagora riteneva di sì e cioè che qualsiasi elemento potesse essere ulteriormente diviso le omeomerie di Anasagora questo sono particelle infinitamente divisibili già Democrito aveva detto questa affermazione cioè che l'universo sia infinitamente divisibile che tutto che non esista nulla che non sia ulteriormente divisibile è contraddittoria perché se tutto fosse fatto di parti infinitamente divisibili la conseguenza logica sarebbe che tutto è fatto di nulla perché se affermassi il contrario che è fatto di un quid ed è esso stesso divisibile non potrei dire che è fatto di un quid perché esso stesso verrebbe a sua volta diviso Bruno fa un ragionamento che dal punto di vista della come dire stringenza logica non ha nulla da invidiare a quello di Democrito perché appunto nel de minimo quello che dimostra è esattamente questo pensare che le parti finite dell'universo possano essere divisibili all'infinito sarebbe una contraddizione perché ciò che è finito dovremmo ammetterlo come infinitamente divisibile quindi insomma effettivamente i dialoghi che lui ha citato sono tutti di grande interesse veramente da approfondire lo spaccio della bestia trionfante a cui lui si è riferito è un testo straordinario anche e soprattutto non solo per le implicazioni morali etiche questa visione di questo Giove che spazza il cielo togliendo degli animali per sostituirli con altri a me ha sempre rimandato il pensiero ad un altro testo di Bruno scritto mi sembra a Parigi questo che è il Cantus Circeus quello in cui la figura anche lì ci sono degli animali protagonisti la figura di Circe che trasforma come sappiamo i creci in maiali lui la prende come spunto per dirci come in fondo nella sembianza fisica dell'animale sia nascosta una struttura psicologica ecco quindi lo stesso poi l'altro testo a cui lui ha fatto riferimento il Deumbris Idearum sulla conoscenza umbratile lì è tutto un discorso in cui di fatto si parte da Platone ma per andare ben oltre Platone con delle suggestioni interessanti quindi ecco veramente insomma più che domande quelle del professor sono stato un bel contributo di cui lo ringrazio vi presento diciamo per chi non lo conoscesse il Carla Marx di Sezze è un po' riduttivo è per Carlo Marx e non per me no volevo solo fare una più che precisazione un commento nel film di Liliana Cavani c'è un incontro tra Giordano Bruno nel film Galileo e Galileo stesso chiaramente è un incontro mai fatto mai esistito ma c'è in quei pochissimi minuti in cui si incontrano e discutono la differenza sostanziale che non sta nella matematica di Galileo che applicava nella natura ma nell'applicazione del metodo scientifico tant'è vero che Galileo gli dice tutte le teorie che tu hai fatto lui cerca di spiegare no no io le conosco gli dice Galileo ma che quali prove sperimentali hai di quello che stai dicendo c'è solo la ragione e credo che fondamentalmente la differenza sia solo quella nel senso che da Galileo in poi è sopravvenuto il metodo sperimentale l'applicazione non tanto della matematica quando il linguaggio diciamo della natura ma l'applicazione della metodologia scientifica è stata quella la chiave di volta a cui poi chiaramente Giordano Bruno non ha avuto seguito perché all'inizio il suo era quasi un pensiero oserei dire scusate la cosa quasi magico perché oltretutto era un grande mago era considerato uno dei più grandi machi dell'antichità Giordano Bruno quindi volevo solo puntualizzare questo non so se sono stato chiaro e fondamentalmente era l'esperimento molto molto chiaro Giancarlo ma infatti anzi ti ringrazio perché mi dai modo di chiarire meglio il pensiero anche questo è un passaggio in cui sono stato forse troppo rapido allora potremmo impostare il discorso in questi termini Galilei è il padre della scienza moderna ancora oggi quando si parla della scienza moderna dico moderna non contemporanea perché come sappiamo ovviamente dal novecento in poi dei cambiamenti ci sono stati ma la scienza moderna noi ancora oggi la chiamiamo la scienza galideiana perché Galilei traccia una linea di demarcazione cioè innanzitutto definisce un campo il campo è quello delle qualità primarie dei corpi Galilei cioè ci dice i corpi hanno qualità primarie e qualità secondarie le qualità primarie sono le qualità che possono essere esprimibili in termini numerici la scienza deve occuparsi delle qualità primarie non delle qualità secondarie dei corpi potremmo un po' brutalmente banalmente dire delle qualità oggettive tralasciando quelle soggettive cioè non misurabili e con questa recinzione che lui fa mette i picchetti e dice noi ci muoviamo qui dentro se a me scienziato tu poni una domanda relativamente alle qualità secondarie dei corpi io ti dico non è mio compito posso risponderti a titolo personale ma non in quanto scienza io mi occupo delle qualità primarie e queste qualità primarie sono tali perché esprimibili in termini numerici e dunque ecco il linguaggio magnetico e da quel momento in poi la scienza ha fatto salti eccetera ora a mio avviso se noi come dire confrontassimo Galilei e Bruno su questo terreno cioè sul terreno della scienza Galilei risulta vincitore e Bruno risulta perdente però come ovviamente tutti capite condividete non possiamo rapportarci pensatori come alla squadra di calcio allora a me piace impostare il discorso in un'altra maniera che ovviamente non è mia originale non è la mia intuizione ma è una posizione che io condivido pienamente la filosofia nasce in Grecia da una domanda una domanda che Socrate ma anche prima di lui si pone e pone continuamente il suo interlocutore ti esti che cos'è questa domanda della ricerca del che cos'è si inserisce però in un cammino precedente il cammino precedente è la ricerca sempre e comunque dell'aition e dell'archè della causa e dell'origine quindi la filosofia nasce cercando cause ed origini del che cosa da questo punto di vista la filosofia su queste domande ha messo in atto un cammino un percorso che ha nelle scienze la massima affermazione se noi oggi vogliamo rispondere alla domanda qual è la causa e l'origine del coronavirus ovviamente non lo possiamo chiedere a un filosofo ma dobbiamo chiederlo ad uno scienziato quindi da questo punto di vista cioè se noi tenessimo conto che tutto il pensiero umano fosse soltanto chiedersi qual è la causa e l'origine del che cosa allora dovremmo dire oggi non ha più senso qualsiasi altro tipo di pensiero che non sia quello scientifico se uno invece ritiene che la domanda sulla causa e le origini del che cosa sia soltanto una delle domande che noi ci poniamo importantissima e straordinaria se invece noi riteniamo che ci si possa porre domande anche sul non solo non voglio dire soltanto sul senso delle cose ma anche sulle condizioni del conoscere le cause e le origini delle cose ecco che qui un pensiero matematico non è più sufficiente il pensiero matematico per volere proprio di Galilei funziona perfettamente all'interno di quel recinto che Galilei per primo ha costruito le qualità primarie dei corpi fuori di quel recinto c'è spazio per altre forme di pensiero che ovviamente non sono arbitrarie perché non scientifiche ma dovranno rispondere ad altre logiche cioè logiche strutture non è che stiamo dicendo che fuori di quel recinto ognuno può dire quello che gli pare perché tanto no no ecco allora il contributo di Giordano Bruno a mio avviso è ancora di attualità su questo terreno sul terreno delle domande sulle condizioni della conoscenza non sulle come dire sulle pratiche conoscitive in quell'ambito specifico ecco perché se vista in questa maniera Bruno e Galilei non sono alternativi per cui o sono bruniano o sono galileiano perché perché il pensiero ma per affermazione dello stesso Galilei è molto più ampio dello stesso del solo pensiero scientifico ciao buonasera a tutti buonasera professore ciao Daniele buonasera dunque io sono intervenuto a questa sua presentazione interessante veramente tanto colta per essere fatta in così poco tempo avrebbe bisogno di tanto tanto tempo allora io siccome coletto nella presentazione che lei è regista che è scrittore anche i testi teatrali che fa scuola di teatro e ragazzi o in generale giovani eccetera io non so se vado fuori tema però le chiederei come imposterebbe lei come imposterebbe lei un lavoro a teatro dove evidentemente io almeno lavoro così perché sono io sono regista un po' programmaturico nella mia piccola in mio piccolo modo e quindi cerco sempre di fare tutte le cose ultimamente ho fatto Luigi Fabri che è famoso nell'artico famoso nel mondo ho sempre cercato di scrivere delle cose che poi la gente potesse capire quindi adesso io mi trovo a leggere Eugène Dreverman con lo specchio dell'infinito dove ho ritrovato molte cose che lei ha detto dove cerco di di trovare un testo di creare un testo per poterlo poi rappresentare in parte l'ho fatto eccetera io voglio sapere da lei come come lo rappresenterebbe in che modo le vorrei rubare un po' d'esperienza dato che lei è esperto è professore eccetera mentre io sono lavoro con le scuole faccio anche lezioni alle scuole ai licei superiori faccio dei lavori a teatro preparando questi ragazzi però rispetto a lei evidentemente non sono nessuno quindi a maggior errore le chiedo come presenterebbe al pubblico un Giordano Bruno che come Luigi Fabri ha ancora tante cose da dire oggi alle persone in questa confusione totale delle menti ecco io le chiedo questo ma se brevemente perché insomma adesso la ringrazio per le sue parole ma io tutte le volte che ho scritto testi teatrali su personaggi storicamente esistiti a me personalmente ma una mia scelta ha sempre affascinato ovviamente il loro risvolto umano per cui per rispondere ecco direttamente alla sua domanda io partirei dalla Orazio Valedictoria che è un discorso che magari esagera una mia lettura per carità ma se io dovessi dire forse il momento in cui questo personaggio così che ha vissuto così drammaticamente ben prima ancora del rogo eccetera un momento in cui probabilmente almeno a me piace così immaginarmelo in cui è stato felice è chiaro non è che lo immagino arbitrariamente provando a dar corpo alle sue parole è l'Orazio Valedictoria che è il discorso che lui tiene all'Università di Wittenberg in Germania quando se ne deve andare lì probabilmente lui ha vissuto un periodo in cui si è sentito accolto insomma una comunità di luterani e la chiesa luterana lo aveva scomunicato non meno di quella cattolica eppure lì in quell'ambiente lui si sente accolto e quando se ne va via e se ne va per andare mi sembra dopo di lì andò a Praga dove c'era il grande imperatore Rodolfo II che ospitava maghi da qualsiasi parte del mondo arrivassero insomma scrive questa Orazio di addio una lettera di addio ufficiale che lui lesse all'Università che è di una dolcezza e una delicatezza ecco non abituali in quest'uomo che quando scrive scrive in maniera molto 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 più sanguigna insomma ecco poi se dovessi sviluppare la storia da questo momento di serenità a me nei miei testi piace sempre annullare il tempo perché nella vita non è possibile e ne siamo un po' prigionieri almeno nelle forme d'arte se ci riusciamo a me piace almeno ecco da lì andare un po' avanti e un po' indietro verso ciò che tutta questa vita estremamente un uomo che ha viaggiato tantissimo che lo porta a Wittenberg e tutto il percorso in avanti che poi lo porterà purtroppo a Venezia da Venezia a Roma e da Roma a Campo dei Fiori ovviamente ma è una mia lettura grazie la ringrazio comunque grazie a lei posso chiedere una cosa io? prego Franco e un po' approfittando anche di di altri tuoi scritti non sul tema ma sul periodo storico oggi pomeriggio curiosando un po' ho scoperto che l'analogia temporanea solo temporanea del fatto che si presume non so se sia accertato che il giorno dell'esecuzione di Giordano Bruno a Campo dei Fiori tra la folla ci fosse anche Caravaggio un Caravaggio da qualche anno a Roma ho visto che ci sono molti autori a metà tra studiosi e storici dell'arte che hanno provato a tenere insieme i due aspetti le due personalità come se in qualche modo ognuno per il suo ambito avessero comunque qualcosa in comune nel chiederti questa domanda quindi le tue impressioni se c'è qualche analogia ti chiedo di provare ad inserire qualche elemento sulla Roma del tempo e quindi sul momento storico perché sei partito subito immediatamente con il riferimento giustamente al pensiero forse mi è mancato la contestualizzazione del momento storico un po' la controriforma diciamola così grazie grazie a te Franco io declino la responsabilità perché è Daniele che mi ha spinto e avevo detto che spazio vogliamo dare a questo intervento sulla vita sulla storia lui mi ha detto no parliamo di filosofia e quindi ho obbedito a questa sua gradevole diktat diciamo no beh certo l'anno 1600 l'anno della morte di Bruno è l'anno del giubileo questo non si può dimenticarlo il paradosso è che Bruno probabilmente gli studiosi su questo un po' si dividono perché lui torna in Italia perché chiaro non subito a Roma a Roma ci va trasferito ovviamente in in ceppi ma perché torna in Italia certo torna a Venezia torna per l'invito di Mocenigo eccetera eccetera ma più di qualcuno per esempio su questo anche Michele Ciliberto che prima Vavalà citava che è uno dei più grandi studiosi anche Ciliberto sostiene perché Bruno si fida di Clemente VIII del Papa ha una ritiene che sia come dire un Papa di idee più aperte probabilmente lo era probabilmente questo processo lunghissimo molto lungo il momento in cui lui arriva a Roma non è che viene bruciato il giorno dopo c'è un processo molto lungo c'è anche sarebbe anche l'interessante studiare approfondire gli studi ovviamente sono fatti fra la figura di Santoro e la figura di Bellarmino fra gli inquisitori ma certamente lui arriva in un momento in cui Clemente VIII sta preparando ha allestito il grande giubileo e colgo lo spunto che tu offrivi è paradossale l'anno del giubileo che è l'anno dell'inizio della gloria di Caravaggio perché Caravaggio passa dall'essere un pittore i cui dipinti sono appesi nelle nelle stanze dei cardinali del tempo del cardinale del monte e gli altri estimatori ad essere appesi nella chiesa dei francesi a Roma è lì che inizia la gloria di Caravaggio e perché perché quella cappella come sappiamo la cappella Contarelli deve essere pronta per il grande giubileo a Roma arriveranno molti francesi e ovviamente andranno a San Luigi e dovranno vedere una cappella finalmente da tanti anni dalla morte del cardinale che l'aveva Mathieu Quantrell e e quindi ebbene questo accade nello stesso anno che segna invece la fine di Bruno per cui certo io credo che sia inimmaginabile pensare che quel giorno il 17 di febbraio a Campo dei Fiori Caravaggio non fosse tra il pubblico ma questi due destini di questi due personaggi entrambi straordinari complessi e molto in lotta con la loro epoca perché entrambi molto avanti rispetto alla loro epoca incrociano i loro destini uno perché sta iniziando un percorso di fame e di successo e l'altro perché lo sta tragicamente finendo quindi il clima di quel periodo è un clima che va letto anche nell'ottica di quel giubileo di quell'anno in cui si doveva dare dimostrazione di tante cose che una chiesa è perfettamente allestita e che un eretico è punito come si prevede di un'ottima di un'ottima di un'ottima